ariete armonica a marte la luna anche se opposta fa il vostro gioco per meglio dire quello del partner e lui oggi a dettare le regole straordinariamente pacifici e pacifisti obbedite agli ordini senza fiatare forse non volete grane toro focus della giornata il lavoro ovunque vi troviate in casa o fuori da fare ne avete comunque soluzioni positive per chi cerca un'occupazione in cucina via libera alla sperimentazione date sfogo al vostro b mixando ricette di varie tradizioni gemelli una luna ore aggiunge a risollevarvi lo spirito a beneficiarne soprattutto il rapporto di coppia che recupera un tono romantico e delicato passeggiate nel verde respirate a pieni polmoni l'energia penetra benefica dentro di voi attraverso l'aria cancro al centro dell'attenzione la casa e la famiglia la luna in quadratura vi invita a fare più attenzione alle persone care e alle loro necessità buone notizie per chi lavora in proprio nell'aria fiutate lievi segnali di ripresa guadagni in crescita leone il vostro fascino miete molte vittime ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica pretenderete di più scoprirete di avere molti punti in comune con una persona che lavora con voi approfondite la conoscenza vergine giornata soddisfacente improntata alla creatività ad un uso equilibrato delle proprie forze la luna pone l'accento sulle finanze punto cruciale la motivazione professionale sentirvi gratificati e utili alla società e la paga più preziosa bilancia ottimismo socievolezza un'insolita grinta vi garantiscono il successo in ogni campo acquisti e rapporti sociali finano con il vento in poppa siete in splendida forma ma lo sareste anche di più praticando con costanza l'esercizio fisico scorpione presi da mille interessi avete la tendenza ad iniziare troppe cose insieme senza riuscire a portarle a termine occupatevi delle priorità sarete in grado di trovare delle buone soluzioni per le questioni professionali che vi stanno più a cuore sagittario armonica marte nel segno la luna vi sostiene incoraggia l'iniziativa al lavoro avrete la sensazione che il clima si è più disteso e sereno forma fisica ineccepibile il segreto della vostra scioltezza il movimento quotidiano corsa ginnastica ballo capricorno le altrui esitazioni sono un fattore di disturbo per la vostra natura pratica e razionale soprattutto quando c'è in gioco la credibilità professionale evitate di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche quando non vi compete acquario ottimo il clima di collaborazione con soci e colleghi intuito e creatività vi sosterranno soprattutto se lavorate attori artistici se siete in partenza per un viaggio non dimenticate di aggiungere un campo elegante nella valigia pesci rispetto alla vita pratica e ritmi veloci oggi vi sentite un pesce fuor d'acqua le vostre energie sono tutte rivolte alla ricerca di suggestioni bisogno di interiorità e desideri inespressi i sogni liberano l'inconscio da angosce e paure giocateli all'otto grazie a tutti grazie a tutti